Ben tornati sui miei canali, io sono Giulia e questo è il mio canale. Oggi siamo qui in un nuovo video, al mare come avete visto, al mare di Crebì in vacanze e viate. E siamo veramente felici, sono qua però sono veramente triste perché domani si parte alle 10 e mezza. E sono triste perché non voglio partire, perché il mare è veramente stupendo ragazzi. E niente, questo video appunto siamo al mare, secondo vlog del video e andremo sul pedalo, sul pedalo, come cavolo si dice, pedalo, si chiama così, che è una barca tipo bicicletta che si può fare per me. E abbiamo andato su quell'orso, la vedo tutto il bellissimo mare. E niente, ora siamo andati al bar, ora stiamo tornando, siamo andati al punto al bar e ora stiamo tornando al nostro ombrellone. e poi io e mio padre andiamo sul pedalo che mi madre ha paura del mare, perché non sanno andare, quindi ha paura. Che belletto ragazzi! e niente, ci andremo io e mio padre, credo, cioè mia madre diceva tutto questo tempo che non ci voleva andare, quindi non so se ci viene mia madre, però è vero di no, cioè non lo so, però insomma ora ci andremo e lo vedremo insieme. Allora, mancano esattamente due secondi, quindi uno, due, arrivati! Allora, eccoci qua, è questo qua, non so se si vede, è questo, è questo là, che si pedalo, perché appunto devi pedalare, e quindi è veramente fecchissimo ragazzi, quindi ora ci voglio andare subito, subito, e ora prendo tutto quello che mi serve e allora. Allora, io e mio padre, e se voi siete mia madre, facciamo mezzo euro, quindi dobbiamo pagare 10 euro, se invece dovevamo fare quel minuto... dobbiamo fare mezz'ora, quindi 10 euro ragazzi, e andiamo! Allora ragazzi, io andiamo allora a fare il bagno, quindi se ci vediamo dopo, vai vai! Stiamo superando la boia! Eccoci, della serie non vogliamo farci mancare proprio nulla, anche la gida in barchetta. Col pedalo! Questo scivolo è un minuto, mi sta davanti a mezza. Questo qua non ci fa così a mezza. Tutto qua ci dovreste, no? No. 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 Grazie a tutti.